Benvenuti a questo momento di incontro con i ricercatori, con il mondo della scienza, che in questo momento sembra non godere di particolare, scattemi dire, di questi tempi viene percepito come qualcosa di un po' lontano e un po' ostile. Questi momenti credo che siano importanti anche per questo, c'è molta confusione su cosa sia, io temo la scienza. E va bene, allora approfittiamo di questi momenti per aprire una serie di finestre, che saranno delle finestre così molto specifiche, perché la scienza è fatta tutto sommato in questo modo, è fatta di persone che affrontano in profondità un problema con la multidisciplinarietà, che per l'amore di Dio è sempre più importante, ma la scienza si fa così, una persona affronta un tema, lo studia, e così cercheremo di raccontare in questo modo la ricerca, e poi il modo in cui in fondo si svolge. E cominciamo con uno dei temi considerati più ardui, almeno nella volgata, per quanto riguarda anche la percezione che hanno tanti giovani, è una materia, anzi, come quella della matematica. Tanto è vero che cosa ci chiediamo qui in questo primo incontro, con cui apriamo una bella sfilza di incontri sugli argomenti più ampi, ci chiediamo se esiste anche un lato divertente della matematica. Presumo che non sia qui per sostenere l'esatto contrario. Spero che la risposta non sarà no, credo se lo augurino anche tutti qui in platea. Per parlarcene c'è qui Angelo Guerraggio, che è docente di matematica generale presso l'Università Bocconi di Milano, ma ha insegnato anche alla Statale, a Torino, Pescara, all'Insubria di Varese. Io da studente, anche se del Politecnico, frequentavo l'Insubria, sentivo ogni tanto questo nome, nelle parole di qualche collega di studi all'epoca. In Bocconi dirige il centro Pristen per la divulgazione del pensiero matematico ed è il direttore responsabile di questo mensile nato da poco, che si chiama Prisma, che si occupa di matematica, giochi e idee sul mondo. E so che i giochi sono un po' il suo modo di rispondere a questa domanda. Prego. Grazie. Parto dalle sue osservazioni iniziali. Il nostro padrone di caso osservava che effettivamente, soprattutto per la matematica, forse anche per le altre materie, per le altre discipline, ma soprattutto per la matematica, è difficile spiegare a chi matematico non è che cosa fanno i matematici, come passano il tempo i matematici. E quindi, c'è ancora nella nostra società, nella società italiana, ancora la percezione dell'importanza della matematica è ancora una percezione abbastanza ristretta, limitata. Anche se ultimamente, ma proprio una settimana, quindi mi ricordo 15 giorni fa, mi ha colpito che il nostro presidente Mattarella abbia citato, non mi ricordo dove fosse, ma è una cosa 10-15 giorni fa, abbia citato, forse aveva degli studenti in visita al Quirinale, abbia citato Alessio Figalli, che è un ragazzo, un ragazzo di 34 anni, un ragazzo, che ha vinto recentemente, all'inizio di agosto, è stato insignito della medaglia Filz, medaglia Filz che, come si dice comunemente, è il Nobel dei matematici, che i matematici non hanno il Nobel, allora questo è l'equivalente del Nobel dei matematici, quindi comincia... E' questo che un presidente della Repubblica, di solito i presidenti della Repubblica, ci sono dei precedenti del caso, si vantavano, sempre con tono... non è che si vantasse, però con tono bonario, dicendo, io che non capivo niente, io che non sapevo niente di... io che ho fatto il liceo classico, eccetera, eccetera. Abbiamo un presidente che, credo anche lui abbia fatto il liceo classico, non ne sono sicuro, però ha citato l'esempio di Alessio Figalli. Che comunque non è un'onta, ecco, aver fatto il liceo classico. No. No, ma a proposito di che... Io ho fatto il liceo classico, quindi non è un'onta. Io no, eh. No, è un po' un'onta dire, vantarsi che... Io sono arrivato ai vertici della Repubblica, in questo caso. Nonostante non sappia fare... A proposito di che cosa si fa un matematico, di che cosa si appare matematica, e del fatto che questo non viene percepito molto bene, mi viene in mente che la classica obiezione, quando uno, non so, va al bar e gli sbagliano i conti di cappuccino più brioche, è che io non so fare i conti, non sono bravo in matematica. Quando in realtà oggi la matematica, non è, a proposito di che cosa fa, non è fare i conti. No. Tanto è vero che, adesso non mi ricordo quale famoso matematico, una volta fu ripreso da uno studente perché aveva sbagliato una somma e disse che il compito dei matematici, per fare i conti esatti, c'erano i ragionieri, c'erano i contabili, i matematici facevano altro. Oppure, anche se è un po' triviale, ci sono i ragionieri, ci sono gli ingegneri, dicono, ecco, con un tono un pochino di sufficienza nei confronti degli ingegneri. No, i matematici hanno delle cose più serie da fare, dei calcoli, e potremmo adesso, sarebbe da chiuderla qui, questo discorso, dicendo che i matematici di mestiere, per dire, ma allora tu hai cominciato a parlare che cosa fanno i matematici, dacci almeno una risposta, un minimo di risposta, ecco, i matematici risolvono problemi, i matematici risolvono quei problemi che in generale gli altri, un po' ci faccia vantare, che in generale gli altri non sanno risolvere, e allora hanno bisogno di andare dal matematico, e il matematico costa, non è che costi lui in termini economici, perché si fa pagare, ma costa in termini di fatica, perché, ad entrambi, perché io, che non sono matematico, quando parlo con un matematico devo farmi capire, e il matematico deve entrare in un problema di biologia, di economia, lui che magari non sa niente di biologia e di geologia, cioè il confronto ha un costo. Ecco, però, ha un costo, io vorrei partire dal fatto che questo costo vale la pena di pagarlo, nel senso che la matematica, tra poco diremo che è divertente, e poi può essere facile, difficile, a seconda poi, uno che scuola ha fatto, che classe ha fatto, dipende anche dall'ambiente familiare da cui, insomma, però c'è una cosa sulla quale, che la matematica è una cosa, io da qui vorrei parlare, poi andiamo a finire anche sul lato divertente, andiamo a finire sui giochi, che la matematica è una cosa importante, ecco, io vorrei partire da qui, questo, la matematica è una cosa importante, non sono quattro calcoli, volevo citarvi come esempi del fatto che in Italia ancora, però, chi ha una certa età come me, avverte sicuramente, in Italia siamo indietro sempre, non è ancora il Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera, però sicuramente c'è, anche nel nostro paese, un clima diverso rispetto a quello che c'era 30 anni fa, 40 anni fa, questo è sicuro. Volevo citarvi brevemente, per dire, la matematica è una cosa importante, volevo citarvi tre fatti fuori dai nostri confini, e poi cercare di spiegare, sempre, non con un occhio all'orologio, perché all'orologio ci pensa lei, io voglio andare a finire a parlare poi dei giochi e del lato divertente, ma tre fatti che, fuori dai nostri confini, Francia, Francia, Macron vince nel 2000, e spero di non sbagliare, 17, vince le elezioni presidenziali francesi, si presume che un Presidente della Repubblica abbia delle cose, in Francia, ma per tutto, abbia delle cose importanti, infatti c'era la matematica, nel 1700, tipo, in Francia, adesso torno, ma penso a Macron, c'ha, non so, la disoccupazione, il PIL, insomma, bene, lui uno dei primi provvedimenti che ha preso, è quello di istituire una commissione di deputati, senatori, sull'insegnamento della matematica, e questa commissione ha chiuso i lavori a febbraio, tra l'altro faceva parte di questa commissione, una medaglia FILS prima di Figalli, presentando 21 punti per il miglioramento dell'insegnamento della matematica. Qualche mese dopo, Inghilterra, Regno Unito, Teresa May, anche lei, probabilmente c'è altre cose da cui pensare che non la matematica, ha dichiarato, ha istituito un provvedimento per cui, per parare il Brexit, per parare il fatto che l'Inghilterra esce dall'Europa e quindi probabilmente avrà dei contraccolpi sul piano dei talenti, sul piano intellettuale, eccetera, ha lanciato un programma, una scuola matematica, specializzata in matematica, in ogni città inglese. E siccome Teresa May è partito conservatore, per far capire adesso con una battuta che non è una questione di destra, di sinistra, volevo citare ultimo episodio, il presidente Obama, 2012, sembra un secolo passato da quando gli Stati Uniti avevano un presidente come Obama, adesso le cose sono cambiate in modo radicale, bene, ha lanciato il programma per ridare competitività all'economia, non quindi per fare calcoli, ma per ridare competitività all'economia statunitense, 100.000, l'assunzione di 100.000, d'accordo, le dimensioni degli Stati Uniti sono quelle che sono, 100.000 insegnanti di matematica. E poi raccolgo la provocazione, come dire, allora risalendo indietro col tempo Obama vuol dire 2012, ma risalendo indietro col tempo quella che potremmo chiamare la madre di tutte le rivoluzioni, la rivoluzione francese, e questi avevano delle cose, anche qui, loro e Napoleone avevano delle cose un pochino importanti da fare, ebbene, una delle prime cose che hanno fatto è istituzionalizzare l'insegnamento della matematica, pagare i matematici, obbligarli a scrivere i libri di testo per gli studenti e via discorso. Considerate che tra la fine del Settecento e l'inizio del Sottocento tutti i più grandi matematici erano, non a caso forse, francesi. Certo. Quasi tutti i più grandi. Le due grandi scuole erano quella francese e quella tedesca. E quella tedesca. E prussiana, insomma, quella tedesca. Quindi, la matematica è da questo punto di vista davvero una cosa importante. Io vorrei provare... Perché è divertente, adesso ci dobbiamo andare. Sul lato divertente? Allora, dico solo il titolo di cui volevo parlare, ma vado sul lato divertente. Mi sarebbe piaciuto, lo faremo un'altra volta che ci troveremo qui per la prossima edizione, si dice la matematica è utile e bella. Noi svolgeremo il tema è bella, è divertente. Ma mi sarebbe piaciuto con voi, ci troveremo un'altra volta, insomma, a spiegare, a cercare di individuare dei punti. Prova a dire perché è utile. Prova a dire perché è utile. Fare l'elenco del perché è utile ti espone al rischio quando... È utile per cinque ragioni, quattro, sei, ti espone al rischio che si alzi uno e dica mai dimenticato questo. Cioè, quindi, cerca... Lo faremo un'altra volta. Provare a dire con maggior precisione possibile, sempre lacunosa, poi ci sarà qualcosa da aggiungere, eccetera, ma perché mai la matematica in una società occidentale come la nostra è utile. È bella, è divertente, esiste un lato divertente. Io la prendo dal punto di vista, ovviamente, dei giochi matematici. I giochi matematici sono... Dei giochi matematici. Sono delle... Cioè, dei... Chiamiamoli problemi, problemini, che ultimamente hanno avuto in Italia, hanno in Italia, riscuotono in Italia, un proprio, direi, grande successo. I ragazzi o ex ragazzi, non è una questione, come dire, di età, i ragazzi o ex ragazzi gli piace giocare con i giochi matematici. Ed è per noi matematici una cosa bella, interessante, perché, e come io faccio sempre questo esempio, io mi ricordo che ragazzino, quando mio papà portava a casa il giornale, ragazzino, non mi ricordo, 10, 12 anni, io leggevo unicamente, cominciavo e finivo, leggendo la pagina sportiva, perché questo era il mio interesse. Bene. La pagina sportiva, però, per me, che credo di non essere un caso isolato, è stato il la, per poi leggere, col passare degli anni, anche le altre pagine del giornale. Bene. Ci sono, quindi, alcuni che entrano nella matematica tramite i giochi, ci sono alcuni che entrano nel giornale tramite le pagine sportive, e ci sono alcuni che invece si fermano alle pagine sportive, perché gli piace, anche se l'età aumenta, beh, ci sono queste persone. Ci sono delle persone a cui il gioco matematico interessa e poi attraverso il gioco matematico scoprono il piacere della matematica, non dico nel suo complesso, ma nel senso di altri aspetti, e c'è chi invece passano gli anni ma si continuano a divertire giocando con i giochi matematici. E quel mensile che adesso il 4 ottobre sarà in edicola riporterà i testi delle gare che noi facciamo a livello europeo sui giochi matematici. Vi volevo fare un esempio, questo al di là del... ho preparato un esempio che io cito spesso, spero che non tutti l'abbiate già, lo conosciate già, perché allora la cosa mi sarebbe un po' in imbarazzo farne, improvvisarne adesso un altro. Un gioco che io cito spesso perché presenta alcuni lati secondo me caratteristici dei giochi matematici. Non parla di grandi numeri, il numero più grande che adesso vedrete è 36 in questo gioco, quindi voglio dire fino al 36 ci arriviamo tutti. Quindi a sfatare il fatto che il matematico va avanti a studiare e dice perché devi arrivare con i numeri più alti, no, 36. Secondo, non si usa, adesso lo vedrete, non si usa nessuna formula, nessun teorema sofisticato, non è che devi sapere della matematica particolarmente avanzata, lo anticipo, tanto questo non rovino nessun, non svelo nessun segreto, lo capirete subito, ma si parla di scomposizione in fattori primi, quella che ci hanno, almeno a me, insegnavano in prima media, non so a lei, ma insomma alle medie. 12 è 4 per 3, 2 alla seconda per 3, ecco questa roba qui, ci insegnavano, e di questo parleremo. E poi è un pochino anche divertente, nel senso che è una storiella, ecco questa è una cosa importante, i giochi matematici non sono un'espressione, non sono un'equazione, non sono un testo già formalizzato in matematichese, ma si tratta di un testo scritto in italiano, insomma in linguaggio non formale, e che bisogna capire che cosa, cioè bisogna ragionare con la propria testa con la logica ordinaria e se si può lo si risolve con la logica ordinaria meglio se non puoi evitare, se eviti la matematica meglio, fai prima e costa meno. Di solito ci si accorge che con la logica ordinaria, la logica ordinaria vuol dire quella che usiamo tutti i giorni per venire buon senso, buon senso, non ce la fa, non ce la fa, e allora devi capire come tradurre questo testo scritto in italiano in una espressione, in una equazione, ovviamente in un'equazione stupida, di primo grado, se il gioco è semplice, più complicata, via via, se il gioco diventa, diventasse più complicato. Ecco, questo è un gioco matematico, è una cosa in cui magari ci sia anche un pizzico di cattiveria in chi lo propone, non di cattiveria, insomma, non dico neanche trucchi perché deve essere una cosa onesta, però un qualcosina, un pochino, che ti porta e dice ah, non ci avevo pensato, hai cercato di fregarmi e ci sei riuscito, ecco, un pochino questo, un pochino questo. Il gioco che vi propongo, ci sono cascato, ci sono cascato, il gioco che vi propongo è di, lo potete chiamare come volete, noi non so perché siamo abituati a chiamarlo di Anna e Chiara, è un gioco proprio davvero semplice. Cinque minuti abbiamo ancora di... Cinque minuti per raccontare il gioco. Parliamo di questo gioco. I cinque minuti per raccontarvi la storiella perché è questo interessante, raccontare ai ragazzi o ex ragazzi che la matematica non è due rubinetti o una vasca che si riempie, è una storia, è una storia che può capitare a tutti. In questa storia che può capitare a tutti ci sono due amiche, date gli nomi che volete, che si incontrano dopo molto tempo, si incontrano molto tempo dopo e come sempre succede alle mamme o ai papà lo stesso, si chiedono come va, forse gli chiede anche come va il matrimonio e prima o poi la domanda cosa fai? Prima o poi la domanda va e i figli, quanti figli hai? Bene. E una delle due amiche dice ho tre figli, tre figli. Non è importante, uso il termine figli in senso neutro, maschi, femmine, questo non è importante. ho tre figli e allora l'altra le chiede che età hanno. Tre figli, è una domanda molto naturale, ma che età hanno? Solo che il problema è che quella persona a cui lo chiede è una matematica e quindi le piace fare un po' la misteriosa, un po' la strana, un po'... invece di dire che so io hanno cinque, dieci, ventiquattro anni, insomma, che fanno le persone normali, gli dice, le dice, all'amica, le dice ma guarda, le loro età, il prodotto delle loro età è 36. Ecco, questo è il massimo numero che facciamo, il prodotto delle loro età, è una persona un po' strana, d'altra parte è una matematica, quindi non può essere un pochino strana, glielo dobbiamo concedere. 36. E l'altra dice, ti ringrazio dell'informazione, ma questa informazione non mi è sufficiente. Dentro di noi non siamo obbligati, però qualcuno di noi pensa, è certo che non è sufficiente, hai tre incognite e gli hai dato un'equazione. Dentro di noi qualcuno pensa, x, y, z, x per y per z uguale a 36, ma io ho bisogno di un sistema di due equazioni in due incognite, tre equazioni in tre incognite, di solito devono essere pari il numero delle equazioni e il numero delle incognite, ma questo non siamo obbligati a saperlo. Non lo sappiamo. E allora le dice, vabbè, ti do un aiuto, ti dico anche la somma delle loro età. E siccome sono davanti a un palazzo, davanti in questo tendone ci sono dei numeri, dice, guarda, entrambe le amiche, dice, guarda, la somma delle loro età è quel numero che vedi lì scritto. Quindi entrambe vedono questo numero. e l'altra le dice, non mi basta. Noi non siamo sorpresi, alcuni di noi pensano, certo, hai tre incognite, gli hai dato due informazioni, due equazioni, come si dice nel linguaggio scolastico, il problema è indeterminato. Bene, pur essendo in interi, è indeterminato. E allora l'altra, la matematica, con un'area un po' di sufficienza, le concediamo un po' di aree di sufficienza, dice, eh, vabbè, vabbè, pazienza. Dice, guarda, te lo dico, te lo dico, ti do il linguaggio televisivo, l'aiutino, l'aiutino, quello finale, definitivo. Il maggiore, supponiamo che siano tre maschi, mi è venuto il maggiore, ma questo non è importante, il maggiore ha gli occhi azzurri. Ecco, questo è il carino, cioè nel senso che mentre per le prime due informazioni, anche chi di noi dice x, y, z uguale a 36, x più y più z uguale a quel numero lì che entrambe vedono, non si capisce che cosa c'entri la matematica con il maggiore agli occhi azzurri. Cioè, qui sembra, ecco, in realtà, adesso ve lo faccio vedere con il puntatore, la, ecco, questo è un gioco matematico, prima di farvi vedere la soluzione, ho finito, finito. Questo è un gioco matematico, cioè, è una storiella simpatico, simpatica, divertente, a meno che io non l'abbia sentita già dieci, cento volte, simpatica, divertente, i numeri, 36, dai, non ci sono formule, ed è, bene. Allora, qui, benissimo, ho già schiacciato questo. Allora, una cosa ho capito, non ho capito assolutamente cosa c'entri il fatto che il maggiore abbia gli occhi azzurri, ma una cosa ho capito che il prodotto dell'età fa 36, allora in un linguaggio appunto scolastico di scomposizione in fattori primi o comunque scomposizione in fattori, ho scritto qui, si scrive, tutte le terne sono ordinate in senso decrescente, cioè 36, 1, 1, 18, 2, 1, se li cambiate ovviamente avete la stessa soluzione quindi non state a permutarli, avete tutte l'età, si suppone che l'età siano in interi, ovviamente che non è che abbia tre mesi, tre anni e quattro mesi, tutte l'età, tutte le possibili età dei tre figli maschi il cui prodotto, per esempio, questo 6 per 3 per 2, 6 per 3, 18 per 2, 36, il cui prodotto fa 36. E quindi ci credo che questa informazione non è sufficiente perché ho otto possibili risposte e quindi è un problema come si diceva, indeterminato. Però poi succede che l'amica matematica dà all'altra un'ulteriore informazione, dice la somma è quel numero lì che loro vedono e questa informazione, la somma è quel numero lì che entrambe vedono non è sufficiente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se loro avessero visto lì sul tendone 38, per esempio, la risposta... Allora è la prima. se loro avessero visto sul tendone lì 21, la risposta sarebbe stata la seconda. Cioè, allora vuol dire che il numero che hanno visto è un numero che, quella dice, non sono ancora in grado di rispondere. Vuol dire che il numero che hanno visto lì sul tendone è un numero che come somma corrisponde a due o più terne. allora ci sono, ho scritto le somme, ecco, vedete che ci sono due, non può aver visto 16, perché se lì fosse scritto 16 sarebbe stata la terza. Quindi, per forza, sul tendone hanno visto 13. È ancora indeterminato, perché ci sono due terne che danno come somma prodotto 36 e somma 13. E qui arriva la terza informazione, la terza equazione. peccato che non sia un'informazione matematica, dice, il maggiore ha gli occhi azzurri. E qui c'è un piccolo trucco, perché naturalmente con la voce io ho cercato di portarvi fuori pista calcando con la voce gli occhi azzurri. Invece l'informazione ovviamente importante è il maggiore. E quindi vuol dire che non è la coppia 6-6-1 dove non c'è il maggiore, ma è la coppia 9-2-2. Ecco, la matematica è una cosa seria, è una cosa seria. È talmente che ci si può anche divertire. Questo volevo dire. Grazie, grazie. Beh, e soprattutto la dimostrazione di come un gioco matematico alla fine si ha appunto la risoluzione di un problema e trovare una via, una strada con le informazioni che è rigorosa, sia pure il rigore di un gioco matematico, ovviamente, non il rigore della dimostrazione di un teorema, però è rigorosa. Ecco, è rigorosa, allora, intanto se ci sono domande, io devo dire che mentre tra le varie riflessioni che mi è capitato proprio ieri leggere un comunicato stampa in cui c'era scritto che i costi della manutenzione di una certa roba con una nuova tecnologia scendevano del 250%. Questi sono invece, a proposito, come si fa a ridurre un costo del 250%, al limite lo si ridurrà del 100%. Un famoso politico una volta a porta a porta, non farò il nome per pietà, disse di aver ridotto la criminalità del 150%, come dire che metà dei galeotti sono anche dati alle opere di bene. Ecco, alla fine, forse fare giochi matematici ci serve un po' anche evitare di cadere in questi giochi di parole con i quali si gioca con la matematica, ma non in questo modo. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Se c'è qualche matematico mi chiederei come entrare nel business dei giochi matematici, per esempio. Io penso che la matematica sia un po', se non tolgo la parola a nessuno, pensavo all'esempio dei politici che... Io penso che la matematica sia da una parte come la musica. Uno può, diciamocelo, uno può benissimo vivere senza matematica, io lo penso. La maggior parte degli abitanti di questo pianeta vivono senza conoscere la matematica. Ma è come se non conoscessi la musica. Tu puoi benissimo vivere senza conoscere la musica. Non hai mai sentito la musica. Mai. Essere ignorante completamente di musica. Però ti perdi un senso. È come se uno dei tuoi cinque, cinquanta sensi fosse chiuso. Il politico che dice che si fa un giro, mi ricordo l'altro, di 300, un giro completo, quello che riduce la criminalità, erano dello stesso partito in questo caso, del 150%, fa un errore, fa un errore clamoroso, ma soprattutto mostra che non ha familiarità con un linguaggio che diventa sempre più prevalente in questa società. Se tu non sai la matematica, puoi benissimo non saperlo. Non cambia niente. Però non riesci a leggere i giornali, non riesci a seguire certi discorsi che si fanno e che diventano sempre più che si fanno tra la gente. Cioè, la matematica come ricerca è una cosa, ma la matematica come linguaggio comune tra le persone, tra le donne e gli uomini, questo è un altro discorso. Interesse, cos'è un interesse? E allora oggi vedere un grafico su un giornale e capirlo non è matematica, però è avere familiarità con il linguaggio matematico. È un problema di, come dire, di cittadinanza, è sentirsi cittadini di questo mondo. Io lo penso che la matematica è questione di democrazia. Se non sai la matematica, puoi benissimo non saperla, però partecipi da minorato, secondo me, come anche se non sai la musica, se non sai altre cose, ovviamente, non sono un, una volta, qualche anno fa si diceva, un talebano della matematica, ma partecipi da minorato a questa società. Diciamo che è uno strumento che ti dà una lettura che altri strumenti non ti danno. Non è che gli altri strumenti si andano da meno, però quello strumento li ti danno. E che in questi anni, almeno adesso come adesso, si sta rivelando sempre più importante. Ma senza altro, ti dà una potenza di lettura dei fenomeni. Non tutti dobbiamo fare i matematici. Che altre cose non ti danno, quindi serve almeno quello che, diciamo, bisogna sapere almeno quello che serve per riuscire appunto a leggere un giornale. Io creo che ci possiamo fermare qui per il momento. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.